Oggi sono venuto a provare questo bellissimo spot che già conoscevo dall'anno scorso. Ci sono molti cavedani, carpe e anche dei bei barbi, però non è stagione adesso. L'acqua è molto limpida, è un tiro con acqua profonda e ci saranno cinque metri d'acqua e il pesce abbonda, sono smalizziatissimi, veramente sono tremendi, vediamo un poco. Primo gancio. Bello, eh? Bello, ok? lo guardino di qua passa il chilo guardate chi che vedono bellissimo abboccano leggerissimi ho su un 2 grammi con 5 metri d'acqua e faccio partito fino a detenere questo è un cavetano sono relativamente leggero ho su un filo del 10 e l'amo del 18 metto un cuore ancora fuori anche questo è un grandissimo cavetano un po' sempre uguale non va neanche sotto il galleggiante un po' oh la la il peso un po' 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 Grazie a tutti. Bel capitanone ancora. Grazie a tutti. Porco cane! E' voluto far troppo il furbo. Grazie a tutti. Ma che cos'è? E' una carpa enorme, una carpa esagerata. Non si è ancora accorto di essere agganciata. Non si è ancora accorto. Incredibile! eh questa proprio non ho la minima possibilità la sento è pesantissima proprio una roba veramente credo non si sia accorto di essere aggazzata e lì si va avanti e indietro si sta andando sotto l'altra sponda beccato 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 ah che barbo madonna che barbo incredibile guardate che robe un barbo spettacolare 3 kg no ma due e mezzo li e tutti che bello super light daiva filo del 10 amo del 18 la giornata è stata divertente ho cestinato tre bei pesci e ne ho persi due altrettanto per me è solo libero guardate che capedano questo è un altro e infine questo barbo spettacolare veramente un grande barbo divertimento alla grande grande